Il Dengi Show, il circo acquatico per due settimane a Silvi Marina. Ne parliamo con un grande esperto di circhi come Damiano Rossi e con un appuntamento da non perdere con uno spettacolo davvero originale. Sì, perché in zona è l'unico circo acquatico dove possiamo trovare una foca bellissima, animali come pellicani, listrice e un pinguino fantastico. E poi è meglio non dire tutte le sorprese che ci saranno, c'è attrazioni, giocoglieri, colibristi, perché è uno spettacolo completo. Si chiama proprio circo acquatico perché porta degli animali unici e starà qua a Silvi Marina fino al 15, due settimane. E tutti i giorni presenta il suo spettacolo la sera e aspetta sia i bambini che gli adulti per farli divertire. Rispetto al circo tradizionale, il circo acquatico, che tipo di spettacolo propone? Ma sicuramente sono animali, hanno anche la vasca dei Piragni dove c'è una persona che si tuffa, va dentro. È un po' pericoloso però, insomma, ci fa vedere qualcosa di bello. Però è acquatico perché si svolge, adesso andiamo a vedere il teatro, sembra che sono su un veliero fantasma, la deriva, e raccontano una storia dove questi artisti si divertono con gli spettacoli e poi escono questi animali bellissimi. Damiano Rossi, lei è un veterano del settore, ormai la conoscono in migliaia. Che momento vive il circo, oggi come oggi, tra amministrazioni che accettano spettacoli circensi ed altre amministrazioni che invece rifiutano questo tipo di spettacolo? Allora, il governo italiano non ha fino adesso vietato di fare esibire nei circhi gli animali. Perciò i comuni che fanno queste cose dovrebbero riflettere, perché sono famiglie di centinaia di persone che vivono pagando le tasse con questo mestiere. La no, la no, la no, e però noi quando a fine mese dobbiamo pagare le tasse, la denuncia dei redditi, tutto quello che concerne il circo. D'altra parte questo è lo spettacolo più antico del mondo, è uno spettacolo che resta sempre il più affascinante sia per giovani che meno giovani, quindi uno spettacolo che va tutelato. Certo, perché se vediamo adesso i bambini vivono con un telefonino, non vivono più col papà, la mamma, addirittura si sono perse anche di sposarsi, il matrimonio, perché sempre con questo telefonino. Il circo è una tradizione che ha fatto crescere i bambini tanti anni, tanti anni, tanti anni, e adesso lo vogliono abolire, lo vogliono togliere. E tutti questi artisti dove vanno? E questi animali che vivono ormai nel circo, cosa dobbiamo? Ucciderli, li mettono in uno zoo e muoiono. Jenny, responsabile del circo acquatico presente per due settimane a Silvi Marina sulla Statale Adriatica, veniamo a parlare degli animali che proponete alla visione di tutti coloro che vi verranno a trovare. Animali ne abbiamo abbastanza, comunque abbiamo un leone marino di nome James, un maschio di 14 anni, ancora cucciolo, ancora in fase di addestramento. Abbiamo i piragna, che è un ragazzo che va all'interno, abbiamo tre magnifici pellicani, Aladar, Suri e Camilla, un pinguino, un istrice, dei serpenti velenosi che poi metteremo addosso ad una ragazza, e basta, sono tutti qua gli animali che abbiamo. È difficile convivere con questi animali, addestrarli, a regalare emozioni al pubblico? No, non è difficile. L'importante è trattarli come noi, cioè come uno di famiglia. Crescono con noi, vivono con noi, quindi si abitua talmente l'animale alla persona che non gli viene difficile niente. È difficile affrontare una piazza e proporre determinati numeri? Sì, ultimamente sì, perché lo Stato non aiuta in niente, quindi dobbiamo cavarcela da sola con tanti sacrifici. Un appello al pubblico affinché possa correre in massa uno spettacolo originale che non si vede tutti i giorni? Certo, è uno spettacolo innovativo, comunque con tantissime ragazze, è uno spettacolo esclusivamente di donne. C'è solo due ragazzi e siamo tutte donne a lavorare e c'è una sorta di parodia tra pirati e marinai. Ed è innovativo, sì, posso dire innovativo. Circo acquatico, Silvi Marina, tutti i giorni. A che ora lo spettacolo? Allora, unico spettacolo alle 21.15. Allora, unico spettacolo alle 21.15.